Milinkovic Juve? Ciao da Passione Bianconera, bentornato in questo nuovo video. Come sempre vi invito ad iscriverti al canale per non perderti alcuna novità e per rimanere aggiornato su tutte le novità della Juventus. Ti ricordo inoltre di attivare la campanella delle notifiche che trovi sempre qui in basso. Ma veniamo subito alle notizie di oggi. Milinkovic Savic sempre più vicino alla Juventus. Secondo infatti molte voci vicino al mondo Juve, il giocatore serbo sembra essere vicino al club bianconero. Ieri sera si è giocata infatti la partita Juventus-Lazio e il giocatore serbo non ha brillato particolarmente, anzi ha perso clamorosamente la palla a centrocampo regalando così alla Juventus il gol. Perché i tifosi della Juventus sembrano guardare già al mercato di gennaio. Quando Milinkovic Savic è stato sostituito ieri sera, il pubblico bianconero ha applaudito come ai tempi di Cristiano Ronaldo. Quindi c'è da registrare la presenza di Kezman, il suo procuratore, con la dirigenza bianconera. Noi infatti in questo periodo di sosta vi terremo aggiornati su questa notizia e anche su altre del mondo Juve. Come sempre ti invito a scrivere nei commenti il tuo parere riguardo a questa vicenda di calciomercato. Per questo video è tutto, noi ci vediamo ad un prossimo video per altre notizie della Juventus.